vabbè andiamo a vedere i veri ladri di youtube italia saranno i freebooter chi lo sa scopriamolo in questo fantasmagorico video del doggo non è un serpente sperando che non sia come tweener sennò abbandono subito bentornati a tutti nel canale del doggo bene già che iniziamo con un vice city è il mio rispetto ecco come state ragazzi male 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 sto male perché sto vedendo un video del doggo c'è che dovrebbe essere il tweener dei poveri se non di più se vogliamo metterlo da questo punto di vista ma ok che bello che avevo altri video salvati ma molto probabile li salteremo quest'oggi da youtuber del 2015 andiamo dritto al punto è un po come quando ci provate con una ragazza alla fine vi interessa sapere come si chiama dove abita o volete solo scoparvela se passate almeno un paio di ore nel suo ecosistema probabilmente oltre a non avere una vita sociale come me non usate nemmeno twitch visto che solitamente una persona decide la nascita tramite un documento scritto da che parte stare da twitch oppure da youtube nessuna via di mezzo niente mezze misure da una parte o dall'altra ora il problema è che nell'ecosistema dei creator twitch gioca una parte fondamentale in tutti gli scandali se del momento perché ormai il 70% dei creator essendo pigri e non sapendo fare video bene streamano su twitch che è ovviamente più facile alt alt voglio dire che ci vuole alt 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 non diciamo cazzate perché ci sono quelli che fanno entrambe le cose fanno entrambe le cose quindi fanno video bene e streamano bene tipo che ne so marco merrino è rimasto uno dei pochi oppure qual era un altro poldo pure fa live bene e edita bene cioè quindi signor doggo si decida un po' lo so che intende i freebooters lo so lo so già doveva parare dire le tue stronzatine mentre magari fai vedere video fatti con il sangue e il sudore degli altri creator nel frattempo e si ragazzi sto parlando proprio di quel meccanismo perverso era scontato che si parlava di loro era scontato sapete che cosa ho capito dal titolo cioè percepiva già quella sensazione so che su twitch si chiama reaction ora a parte gli scherzi moderiamo i toni torniamo ah quello che sto facendo io è poche parole sono pigro youtube e twitch nonostante siano due piattaforme molto diverse sono un po' come due dimensioni parallele che vengono collegati da dei buchi neri buchi neri che ci fanno arrivare ciò che accade su twitch senza stare a perderci in ore ed ore di live questi buchi neri beh ma mi sa che le ore di live possono servire perché i freebooter tolgono le parti migliori che ti fanno capire che non fanno altro che caricare come video degli spezzoni interessanti di alcune live fatte su twitch solo che questi spezzoni vengono caricati nel proprio canale andando di fatto a rubare tra virgolette il contenuto di uno stato beh oddio rubare no perché se chiedi il permesso non è rubare alla fine i freebooter dalle clip che ci caricano ci guadagnano come me mettono degli annunci in mezzo al video per guadagnarci e voi direte eh ma questa non è una cosa giusta andiamo con ordine perché beh se è stato editato pensate che il titolo sia un po' non lo è signor doggo non è un cazzo significa letteralmente pirata i freebooter svolgono senza dubbio un lavoro importantissimo per la comunità si citiamoli almeno sti freebooter perché il loro ruolo in questo ecosistema così complesso è letteralmente vitale e necessario è vero eh si si auto freeboota giustamente e questo equivale sostanzialmente beh in quel caso l'area non è freebooting però è una pratica che porta utilità a tutti perché molti non avendo il tempo di guardare intere live su twitch le recuperano su youtube tipo me solo che non tutti gli streamer mettono a disposizione un canale youtube dove possiamo trovare e recuperare queste live beh io metto solo alcune cose o ti toccare abbonarti al loro canale twitch per vedere le precedenti poi se qualcuno vuole prendere anche momenti di reaction e renderti un video può farlo è una cosa tremenda perché non c'è proprio abituato seconda cosa ti toccherebbe trovare il punto esatto che ti interessa dove avviene quello specifico momento il che è senza dubbio scomodo e ripeto per chi non sa usare twitch deleterio per la propria salute insomma il ricaricamento di ispezioni interessanti su youtube non fa altro che permettere a tutti di usufruirne e di rendersi conto di cosa sta accadendo nel web senza per forza seguire twitch oppure un creator nello specifico il che ripeto secondo me è un servizio utile e siccome è anche richiesto è giusto che questi ragazzi guadagnino da questi ricaricamenti ma di questo adesso ve ne parlerà con calma il re dei freebooter ah no scherzavo in realtà questa persona ha anche lui un canale morente di commentari e si trovi per cercare di rubarsi qualche scritto ma ehi facciamo finta di nulla ciao ragazzi il doggo mi ha chiesto di partecipare e giuro non ci sono state più schiose dietro sono venuto di mia spontanea volontà perché sono uno scalatore sociale come vedete questo è l'impero finanziario che sto costruendo grazie a youtube bellissimo peccato che io non sono ancora arrivato a quel livello anche col canale freebooting prendiamo un sacco di goliador i freebooter perché si fanno davvero ma davvero un sacco di soldi tantissimi guarda tantissimi a cadenza giornaliera sugli streamer più famosi fanno decine di migliaia di visual e arrivano a fare quasi più soldi degli streamer se è il caso del freebooter di maghaka 96 ma come vengono trattati non conosce bene allora come funziona youtube consapevoli che qualcuno sta guadagnando sul loro content senza praticamente muovere un dito beh le risposte sono diverse prendiamo iotobi ad esempio iotobi ha eletto un ragazzo il mettio del tubo che edita le sue live ok ma non solo le sue è anche quello del gatto molto molto impegnativo quindi non si potrebbe neanche parlare di freebooting tutti gli altri canali che ricaricano le sue live sono invece stati segnalati o comunque si è lavorato per fargli rimuovere i video e se da un lato questa cosa sembra un po' estrema in realtà iotobi ha parlato in un'intervista su breaking italy di questo problema dicendo che gli spezzoni delle sue live venivano ricaricate senza contesto magari anche clip in cui lui esprimeva pareri personali negativi su qualche content creator e la gente su youtube non capiva che le live fossero condotte con un'atmosfera molto molto leggera e giocosa andando poi a criticarlo nei commenti c'erano utenti che commentavano anche abbastanza pesantemente quelle clip dicendo ad esempio che sarebbe rimasto solo e che facevano leva sulla rottura con la sua ragazza del tempo o roba così ma lo sappiamo la sezione commenti di youtube è la festa del tatto e del rispetto reciproco in questi casi il freebooter mostra il suo lato peggiore secondo me si ricaricano clip fuori contesto e a conti fatti si fa disinformazione su un creatore di contenuti che dipende dal freebooter se trovi quello buono non fa così lo fanno anche per guadagnare per avere visual come ad esempio bugozzi o stuvi questi canali sono praticamente freebooter ufficiali e mi sa che questa cultura è diverso quelli ufficiali sono diversi beh anche i modificati tv hanno dei freebooter ufficiali tipo c'era un tempo fa c'era coso Rocco Braz poi chi più c'era c'era coso arts una cosa del genere ce ne sono un bel po' di freebooter ufficiali ma loro funzionano diversamente funzionano quindi sono così tanto entrati nella cultura della community italiana che gli streamer stessi cantano dei jingle che vengono poi usati come sigle dai suddetti canali ho detto suddetti in un video dio mio probabilmente ho ucciso il tempo di visualizzazione godo sabotiamo la concorrenza comunque in questo caso fra il creator e il freebooter c'è un legame saldo c'è una simbiosi c'è una collaborazione lo streamer da da mangiare al freebooter e il freebooter facendo decine di migliaia di visualizzazioni porta più seguito di ritorno allo streamer anzi tre volte potrebbe dare da mangiare perché a sua volta si sa fa fa le cose quindi dei soldi arrivano anche al creator che riesce a divertire e intrattenere e al contempo fa diventare famose delle clip che altrimenti sarebbero persa nel mare di twitch purtroppo è vero come Marco Larrino che grida che l'acqua non è verde o cose del genere però anche qui ci sono dei paletti è vero che ad esempio Dario Mocha lascia che i suoi video vengano freebootati ma una volta ha capito che a parassidare sui suoi contenuti erano in tanti e continuamente in aumento ha deciso anche lui di mettere dei paletti secondo me ha fatto bene perché va bene scherzarci su inizialmente ma darebbe molto fastidio anche a me che decine e decine di canali guadagnassero alle mie spalle senza sapere neanche lontanamente editare un video infatti i freebooter di Dario adesso sono un numero ristretto e secondo me questo è un buon compromesso fare il freebooter oltretutto potrebbe darti prospettive di carriera se impari a editare perché ad esempio Ciancianguilla prima si chiamava SubZero e faceva editing sulle clip del Cerbero e quindi ha spettato per quella fama come trampolino per creare quel leccaculo di Ciancianguilla che meno male ha smesso di fare video ed è stato regolarmente assunto per editare adesso i video di Sabaco e Saidonia l'importante in fin dei conti è non segnarsi imparare a editare e fare montaggi fighi in modo da essere notati dal tuo streamer del cuore e magari essere spammati dallo stesso streamer che reagisce magari ai tuoi video in live o cose del genere eppure molti freebooter si limitano a parassitare su contenuti altrui senza editare mezzo frame di una clip e anzi possono benissimo ricaricare senza contesto degli spezzoni di live di proposito in modo da creare scandalo per soldi ma di questo ve ne parlerà il dog io vado a comprare le mie gole ad oro con i 5 euro guadagnati con sudore e lacrime bene avete presente il video che feci qualche settimana fa su ciccio gamer e in generale la sua situazione riguardo quelle clip che giravano ecco quello è un perfetto esempio di freebooting dannoso e sapete dove questa pratica viene maggiormente usata esatto su quella amate per nulla idiota piattaforma chiamata tiktok su tiktok vengono caricati top piattaforma number one anche se si tratta di materiale coperto da copyright un po' come succede nei più blasonati siti che solcano i sette mari e nessuno ripeto nessuno riesce a salvarsi da questo barbaro ricaricamento del proprio contenuto chiunque in questo momento è un po' difficile di prendere un film un video su youtube un servizio delle iene e ricaricarlo in maniera barbara su tiktok infatti se vi è capitato di vedere un servizio delle iene su tiktok beh sappiate che quella cosa non dovrebbe essere lì pensate verissimo legale che già si possono trovare nei casini quando reagiscono in live ad un programma televisivo di mediaset oppure di rai ah io non ho avuto problemi finora purtroppo le trasmissioni sono molto severe sotto questo aspetto e si può andare a incontro a banni da parte di twitch o youtube a seconda di dove state piratando la trasmissione diciamo o potete andare io potrei rischiare allora vabbè sti cazzi ad un canale youtube affermato possono rovinare il lavoro youtube quando carichi il materiale coperto da copyright non ci mette nulla a mandarti uno strike e a chiuderti il canale questo è vero anche se si tratta di materiale proveniente da altri canali ma su tiktok beh su tiktok non esiste ci hanno provato più di una strecata l'anarchia rispetto al copyright chiunque può caricare il cazzo che gli pare senza conseguenze o meglio tiktok nelle sue linee guida ti dice che ricaricare contenuto di proprietà intellettuale di qualcun altro viola i termini di tiktok e che se si ma non ce ne accorgono puoi fare richiesta di rimozione ma nel frattempo che tu lo trovi fai richiesta a tiktok e viene preso il provvedimento in merito quel profilo tiktok ha già fatto 9 milioni di visualizzazioni con il tuo video e tu non puoi fare altro che guardare il tuo stesso identico video su youtube che ha fatto 30.000 visual poi se queste segnalazioni riguardo un profilo sono ripetute quest'ultimo viene chiuso e bannato per fortuna e allora che importo tanto me ne faccio un altro questo è parassitare parassitamente letteralmente rubati ad altri ad esempio c'è questo profilo su tiktok che voglio prendere in esempio perché ha un sacco di video tutti da decine tu dici rischi ci fai valere una puntata in diretta in diretta lo sapevo in diretta lo sapevo sono tutti video ritagliati presi da altri canali youtube in questo caso di moto che non so perché ci avranno rischiato più di un canale ma la cosa che più mi dà fastidio è che non va nemmeno a dare i crediti in descrizione come ad esempio fanno i freebooter su twitch cosa che quanto meno sarebbe diciamo comoda per il creator che ha fatto quel video pubblicità gratuita e poi l'ultima cosa dove io mi sbatto la testa il fine di questi profili tiktok che fanno centinaia di migliaia di visualizzazioni a video io vorrei capire a che pro lo fanno perché cavolo capirei ci prendessero li sordi ma non è vero perché tiktok non ti paga nulla lo fanno solo per la serotonina che ti danno i tanti commenti i like le visualizzazioni insomma i numeri in generale ed è una cosa che non concepisco perché io onestamente se non guadagnassi da youtube non ho problemi a dire che non lo farei o per lo meno non lo farei con questa costanza sicuramente dopo questa vagonata di odio contro tiktok siamo giunti all'atto finale ecco avete presente reddit su reddit esistono delle discussioni interessanti o meno che dei profili su tiktok prendono le fanno leggere ad un sintetizzatore e li mettono sotto un gameplay di minecraft parkour l'ho visto non è minecraft alcune volte è anche roblox visto sto proprio mi è capitato ed è stato difficile accettarlo ho ricevuto una telefonata dal mio vicino di casa di tarda sì ma non è freebooting questo e niente ragazzi che a dire anche per questo video è tutto sì ma non è freebooting quello è un'altra roba relativamente a queste pratiche di freebootaggio malvagie e niente ditemi come sempre cosa ne pensate e direi che e cosa ne penso che su una parte dei freebooter hai depensato hai depensato hai detto cazzate soprattutto la parte iniziale che hai detto per quanto riguarda gli streamer che non sanno cioè fanno gli streamer perché non sanno editare i video e lì ti sbagli perché ce ne sono un bel po' che fanno entrambe le cose e poi per i freebooter hai sbagliato qualcosina tipo su alcuni che ci sono alcuni che guadagnano e fanno guadagnare anche il creator perché come posso dire sono a loro volta degli utenti che vanno nella loro chat tipo nel caso di Omiatol che poi gli ha fusi tutti in un unico canale per fare i modificati tv uno dei tanti esempi che poi sono diventati i freebooter ufficiali quindi se sono passati da freebooter parassitari o diciamo che hanno avuto un minimo di approvo di approvo dal creator per diventare poi quelli ufficiali al 100% tipo ci sono alcuni che tramite i network appena tu carichi il contenuto nel giro di 24 ore strecato quindi non puoi quindi esistono ste robe su youtube per rimuovere automaticamente dei contenuti basta avere già il copyright su il vod principale di twitch ma non sa alcune cose lui dice quello che ha visto su youtube che si esistono quelli che parassitano ma ci sono anche quelli che lo fanno anche a titolo gratuito tipo io ho fatto un test con un canale di freebooting e non sono ancora arrivato alla monetizzazione purtroppo però io non sono quello negativo che prende le clip decontestualizzate prende le robe più simpatiche più divertenti che è diverso è diverso quindi lì c'è l'approvazione automatica del creator perché dice sta parte divertente non mi fa vedere come una persona una persona negativa ecco ma dettagli il riassunto di questo video immaginavo subito si parlava dei freebooter il titolo lo diceva subito non c'era manco bisogno di vedere il video già si sapeva che andavano a parare sui luoghi comuni di un freebooter cioè il doggo mamma mia video più basic di questo potevo fare anche io guarda mettevo un titolo del genere dicevo le solite cose ciao e arrivederci troppo semplice fare un video così di doggo troppo semplice troppo ciao ciao